Benvenuto alla presentazione del software registro addestramento d'occa. Il software serve per gestire il registro addestramento lavoratori di sicurezza del lavoro, così come previsto ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8108, modificato dalla legge 215-2021, che lo rende praticamente obbligatorio. Vediamo come funziona il software. Innanzitutto il software gestisce un numero illimitato di aziende, quindi è adatto anche per i consulenti. Vediamo come funziona. Il primo step è inserire i dati della singola azienda e associare ad ogni azienda, nella maschera lavoratori, i lavoratori che hanno svolto l'attività di addestramento. Quindi nome e cognome, la data di nascita e la mansione. Successivamente si procede alla registrazione dell'attività di addestramento. Quindi per ogni lavoratore inserito si va a inserire il preposto che l'ha affiancato nell'attività di addestramento, la data di addestramento, l'oggetto dell'addestramento, la durata, la modalità, le procedure oggetto di addestramento, le attrezzature o l'attrezzatura oggetto dell'addestramento. Infine si va a definire la valutazione dell'apprendimento, che può essere definito su tre valori, addestramento adeguato, richiede ulteriore addestramento, richiede ulteriore formazione. C'è la possibilità di inserire un campo note e eventualmente c'è la possibilità di andare a inserire la data eventuale del richiamo, nel caso in cui l'addestramento non sia andato a buon fine. A questo punto è possibile stampare per ogni singolo lavoratore il report di conclusione addestramento da far firmare a datori di lavoro, all'RSPP, al lavoratore, al preposto e all'RLS. Questo report può essere esportato in PDF oppure può anche essere inviato per email in formato, ad esempio, PDF ed è possibile esportarlo tramite email. Un altro report molto interessante che consente di realizzare il software è quello relativo al registro di addestramento aziendale o, nel caso di un consulente, può essere utile stampare il registro di addestramento di tutte le aziende. Se voglio registrare quello per la singola azienda, seleziono l'azienda da questo menu, stampa il registro, e ottengo così il registro che posso esportare in formato Excel, in formato PDF, in formato Word oppure posso inviare, anche in questo caso, in formato, ad esempio, PDF oppure Excel tramite email, come quello precedente. Quindi questo è molto utile, ad esempio, dai per i consulenti per inviare, ad esempio, ai clienti e mantenere, quindi, il tutto molto operativo. Il software, inoltre, consente di gestire anche i lavoratori per i quali l'addestramento non è andato a buon fine, ma è da ripetere. Quindi clicco su questo pulsante, che abbiamo visto, lavoratori con l'addestramento da ripetere, si apre questa schermata e per tutte le aziende mi appare l'elenco dei lavoratori per i quali non è stato superato l'addestramento. Anche in questo caso posso esportare i dati in formato Excel o PDF oppure esportare inviare il report tramite email nel formato che desidero e così comunicare, ad esempio, al cliente quali sono i lavoratori per i quali è necessario svolgere un'altra sessione di addestramento. Il software, come vi ho visto, è molto semplice, ma allo stesso tempo ha tantissime funzionalità che possono accelerare e rendere molto veloce e completa la gestione del registro di addestramento dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza del lavoro. Il software è disponibile sul sito di rama.org Grazie per la tua attenzione e a presto!